Credo che questa sia una zona talmente bella che dovrebbe vivere di turismo, di gastronomia, di vino eccetera eccetera e non dovrebbe essere rovinata, visto che è un posto che vale i schianti, non un posto che vale le zone belle dell'Italia, dove arrivano gli stranieri a fronte eccetera, se cominciamo a farci un cantiere questo non avviva più, eccetera. Più di un cantiere, sì, no, un canterone, una tricea, eccetera, c'è una zona che va preservata in tutte le...